Non è segreto, ho sempre cercato nella mia carriera di trovare, essere nei posti giusti al momento giusto per avere il miglior potenziale possibile a mia disposizione per esprimirmi nel massimo livello e questo continua ad essere la mia priorità. È naturale anche, è importante per me che avendo vinto sia il mio primo titolo come tutti i tre titoli mondiali, McLaren e Honda, ho un carino molto speciale per questa gente e questo anche fa parte dei miei pensieri in momenti di critica, di decisione, però esiste allo stesso tempo il carismo della Ferrari che è una cosa che tocca il cuore non soltanto dei tifosi italiani ma anche da noi piloti. Quando ero 17 è stato un anno molto buono, 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 1, 2, 3 1, 2, 3 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti